Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti io sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo e siamo qua nella notte buia perché ho appena finito di vedere, sono le quattro passate, l'ultima puntata di Loki sono addirittura sui titoli di coda perché ha voluto rivedere dei pezzi, era necessario farlo quindi ultima puntata, ultima puntata con ultimo bellissimo post, anzi forse nemmeno ultimo perché credo che qualcos'altro lo realizzeranno nelle prossime settimane però reality is not what you think it is, la realtà non è ciò, che pensi, ultimo episodio, ultimo episodio della seconda stagione di Loki ultimo episodio di Loki in toto, nel senso che già veniva detto che erano previste due stagioni Loki era stata pensata quasi come una sorta di libro, anzi di biologia, di libro diviso in due grandi capitoli non lo so, insomma, doveva avere due stagioni e questo avrebbe avuto un finale che non avrebbe portato a una terza pur magari lasciando aperte delle cose o qualcosa utile per il futuro dell'universo Marvel e così è stato, così è stato sesto episodio, sesto episodio, ripeto lo sto, ce l'ho ancora qui da metabolizzare sesto episodio, gloriosi propositi, gloriosi propositi che auspicava ad avere, anzi auspicava di riuscire a ottenere di portare a termine Loki sin dalla sua prima stagione, dalla prima puntata e ancora da prima, no? da sempre Loki aveva questa altezzosità di sedersi su uno scranno, su un trono diventare prima il capo di Asgard, poi forse il capo di qualcosa di più, il capo della Terra addirittura nel primo Avengers insomma, un trono per Loki, Loki era destinato a sedersi su un trono e così è successo, così è successo perché la serie finisce con un trono, finisce con Loki che si siede e insomma diventa effettivamente il nesso di tutte le realtà adesso magari ci arriviamo, riassunto, il solito riassuntino beh, insomma, in questa puntata abbiamo visto Loki ritornare dopo che ha saputo utilizzare il potere dei salti temporali tornare al momento in cui colui che rimane sarebbe dovuto morire succede, quindi lo fa rimorire apposta Loki per chiedere però cosa si potrebbe fare per evitare quella situazione quindi lavora di sottrazione Loki, no? continua a utilizzare il suo potere e dice ma Obi, ma è morto, quindi? ah, dobbiamo metterci più tempo, ok, ma forse dobbiamo partire prima ok, insomma, continua a ritornare indietro, tipo Yo-Yo proprio no? La roba dello Yo-Yo continua ad andare un po' più avanti e tornare sempre un po' più indietro tutte le volte, no? Per riuscire a capire come poter salvare il telaio in una abbastanza lunga parte di puntata che col senno di poi è stata sicuramente tirata per le lunghe un po' troppo però, insomma, riesce nell'intento addirittura passa centinaia di anni probabilmente tornando continuamente indietro per, se il tempo nel caso avanzasse troppo per studiare fisica, diventare super intelligente sapere come fare tutti i calcoli necessari cioè abbiamo un Loki erudito del resto quando hai il tempo infinito perché puoi continuamente viaggiare nel tempo lo puoi sfruttare in quel modo è una cosa abbastanza comune vi ricordo il bellissimo film con Bill Murray il ricomincio da capo, no? Groundhog Day in originale la giornata della marmotta dove lui impara a conoscere le persone che ha intorno praticamente a memoria e a dare sempre le risposte giuste perché rivivendo sempre la stessa cosa praticamente studia il mondo attorno a sé Loki ha fatto una cosa molto simile diciamo, sfruttando una sorta di tempo infinito potendo saltare dove vuole avanti e indietro nella realtà certo, quando hai un potere simile ti viene da pensare se aveva senso lambiccarsi così tanto per salvare la TVA certo, è una situazione che Loki conosceva però quello che sto dicendo è poteva pure tornare a sto punto all'alba dei tempi ammazzare Kang non lo so, ovvio avrebbe dovuto saperlo però se ha passato centinaia di ore nello studiare è vero che in effetti Loki può tornare chiaramente solo dove lui è già stato questi salti temporali gli permettono di agire di entrare nella propria persona quindi comunque sarebbe dovuto tornare in un posto dove era lui e poi spostarsi per il mondo per fare delle cose non lo so non lo so quei poteri temporali facciamo che non ce lo chiediamo la serie non vuole che ci facciamo questo tipo di domande bisogna stare molto attenti ragazzi a scrivere le cose con i viaggi nel tempo perché è veramente un casino comunque comunque ce la fa quindi tornando indietro abbastanza riesce a capire come sistemare le cose come far arrivare Victor Timely sano e salvo a premere quel pulsante a sistemare il telaio ma semplicemente viene fuori che non era utile la cosa perché nonostante tutti i calcoli del mondo le ramificazioni sono infinite quindi continuano a generarsi ed essendo infinite non c'è macchinario perché di fatto è un macchinario non c'è telaio che tenga perché non può ingrandirsi all'infinito non si può tentare di scalare la grandezza verso l'infinito non è possibile quindi in realtà si può ritardare la distruzione del telaio ma mai mai far sì che si venga riparato tra l'altro ha una velocità comunque che non permetterebbe nemmeno virtualmente di continuare a scalare veramente all'infinito cosa che appunto però probabilmente non è nemmeno possibile quindi quindi che fare quindi si può si prova a ritornare ancora più indietro Loki col suo potere torna a quando Sylvie stava per uccidere colui che rimane e qua scopriamo la gabola cioè che colui che rimane aveva previsto anche questo quindi anche tutta la seconda stagione di Loki fino a quel momento era stata prevista da colui che rimane che aveva già avuto quindi dei dialoghi con Loki per spiegargli nuove parti dei suoi poteri tipo fermare il tempo ad esempio quindi insomma Loki veramente controlla tutte le tipologie di viaggio e manipolazione del tempo oramai arrivato a questo punto grazie anche alle esperienze che ha vissuto grazie anche a insomma tutto quello che è successo e colui che rimane quindi lo mette di fronte a un'altra scelta la vera scelta probabilmente dell'intera stagione di Loki e delle altre due ovvero o distruggi il telaio dai luogo al multiverso quindi permetti alle mie varianti di Kang già in giro lui dice in questo momento perché il telaio sta si sta sfaldando il multiverso è tornato ad esistere quindi già sono in giro già sono pericolose se dai largo al multiverso arriverà una guerra multiversale perché per forza si arriverà alla guerra c'è già stata ci sono già passato quindi insomma succederà oppure ammazzisi il via ammazzisi il via che non uccide me e restiamo belli tranquilli perché Loki è arrivato a una conclusione può esserci solo una linea temporale deve esserci una linea temporale unificata per evitare il casino il caos non era possibile anche a livello di media di scrittura di come si dice di di voler raccontare il buono non poteva la Marvel permetterlo la Marvel non poteva far sì che tutto finisse effettivamente con un loop preciso con la linea temporale unificata che ritorna ad esistere perché vorrebbe dire uccidere tutte le altre realtà milioni di vite di potenziali vite che abbiamo anche visto un conto non avessimo mai viste ma Marvel non poteva permettere questa cosa non poteva permetterlo perché di no perché sono i supereroi bisogna salvare il multiverso e non ridurlo a una linea sola chiaramente se no si fa quello che fa il cattivo quindi no non era possibile non era possibile e questa cosa Loki la capisce la capisce proprio dalle parole di Sylvie che dice tu ok quando poi Loki torna indietro le parla per chiederle come posso ucciderti di fatto lei dice se tu mi ammazzi e riporti la linea temporale fai la stessa cosa in realtà cioè non è vero che salvi nulla dai la possibilità al multiverso di esplodere perché tanto lo dice no colui che rimane che il telaio di fatto è fatto per distruggere le altre linee temporali cioè non può è una specie di contromisura il telaio quindi lei dice tu dà te la possibilità che il multiverso ritorni le altre linee moriranno le altre linee verranno autofalciate scompariranno va bene combatteremo fino all'ultimo per provare a scappare io sono sopravvissuto da tanti apocalissi dice lei è una cosa folle quella che propone Sylvie però dice è davvero tanto meglio fare un'unica linea temporale e basta e quindi sacrificare in realtà l'intero multiverso per la pace di alcuni di pochi in effetti no non ha senso e lì Loki capisce dice dobbiamo fare questa cosa dobbiamo ricreare il multiverso ma serve qualcuno che sappia tenere a bada il multiverso e cazzo io posso farlo dice Loki io posso farlo io posso controllare il tempo io posso e sono un dio sono potenzialmente non posso invecchiare sono potenzialmente non immortale ma molto resistente posso posso essere io l'uomo alla fine del tempo l'uomo alla fine di tutto e all'inizio di tutto perché poi diciamo la verità visto che il tempo era praticamente un loop quello che aveva creato colui che rimane quella era la fine del tempo ma era anche l'inizio era una sorta di nesso da lì passava tutto tutto iniziava tutto finiva lì quindi voglio essere io quel nesso dice Loki e torna al presente manda via tutti dice ci penso io affronta le radiazioni con una sola divinità può può fare motivando il tutto in effetti perché io anche io mi chiedevo perché non l'ha fatto lui da subito quella cosa di portare però serviva qualcuno capace di regolarlo anche se avesse avuto dei problemi serviva lo scienziato per fare quella cosa l'unico vero scopo di Timely che però insomma alla fine della puntata resterà un po' inutilizzato quindi Loki va e dice basta ci penso io distruggo il telaio quindi distruggo potenzialmente il multiverso perché le linee finiranno con il morire lo diceva lo diceva appunto Victor Timely è una contromisura il telaio si distrugge va bene le linee vengono lasciate non vengono più tessute e moriranno no perché Loki si fa telaio Loki diventa un arcolaio prende tutte le linee con il potere di modificare il tempo insomma di tenere a bada il tempo ora non è che ci sia una spiegazione super scientifica di un dio che tocca delle timeline e queste riprendono vita e lui riesce a tenerle a sé è una cosa anche molto fantasy Loki comunque è un dio c'è del fantasy in Thor un po' dobbiamo accettarlo esiste la magia nell'MCU non tutto per forza è scientifico ce l'ha detto anche O.B. bisogna un po' credere alle cose e per come era messa in scena io sono disposto appunto a crederci un dio ha deciso di sedersi su un trono e di tenere a bada l'intera realtà tra l'altro l'albero che si forma da questa realtà somiglia molto a Yggdrasil l'albero della realtà stessa tutta la realtà è questo enorme albero ci sono diversi piani diversi regni quello che credevano comunque un po' i norreni quindi c'è anche un po' questo ritorno alla mitologia norrena molto sensata fra l'altro anche Loki intrappolato in un albero nei primi numeri degli Avengers e anche di Thor Loki era proprio intrappolato in un albero e si diceva che per liberarlo qualcuno doveva piangere il suo essere è diventato albero in effetti è diventato albero anche qua quindi c'è un gran ritorno alla mitologia norrena in qualche modo magari qualcuno piangerà per lui e tornerà non è detto che Loki sia scomparso per sempre intendiamoci se Hiddleston non ha più voglia di tornare capito? Marvel se l'è giocata Loki è morto da una parte in Infinity War ma un altro Loki in qualche modo ha fatto ammenda ed ora protegge la realtà se Hiddleston però vuole tornare c'è una bella trama ci mettono poco a mandare lì Thor a liberarlo e metterci un pupazzo al suo posto qualcosa che possa fare le sue veci nel mondo Marvel qualcuno ci sarà possono inventarsi di tutto però per adesso Loki sta lì Loki sta lì e basta la TVA continua ad esistere ora sono i guardiani del multiverso sono quelli che controllano le linee temporali controllano tutte le cose evitano cercano di capire se possono fare qualcosa anche contro Kang chiaramente sanno che è un nemico potente serviranno gli Avengers però intanto la TVA lì dice controlliamo pare che nessuno dei Kang da quel che loro sanno conosce l'esistenza della TVA l'unico era colui che rimane ma ormai appunto se n'è andato perché Loki torna nel futuro quindi ricordatevi Loki è tornato nel futuro dove colui che rimane era già morto era già scheletrito là sulla sedia quindi non c'è più sistemando tra l'altro le linee temporali con un nuovo tipo di manuale viene anche sistemato Timely viene anche sistemato Victor Timely che di fatto non viene più non gli mandano più il libricino da quella finestra non entra più nulla Timely veramente inutile in qualche modo era quasi più un omaggio al suo personaggio fumettistico ma non è che si è servito veramente tanto a ben pensarci per via del fatto che poi non diventa colui che rimane quindi il loop non si compie Silviva per i cavoli suoi credo resterà nella TVA Mobius decide invece di tornare alla sua vecchia vita o sembrerebbe resta ad osservare la sua vecchia vita dice resterò per un po' qua a guardare ho bisogno di un po' di tempo anche Mobius se vogliono possono andare a ripigliarlo e i rumor tra l'altro dicono che è anche probabile che lo rivedremo c'è Ravonna Ravonna è stata mandata alla fine del tempo è stata pulita punita Renslayer è stata punita l'unica veramente punita assieme a colui che rimane però ha anche senso insomma in una serie in cui serve un cattivo lei era quella che aveva fatto parecchi casini assieme a Docs e altri che già sono stati puniti aveva letteralmente ucciso tutti quelli schiacciandoli nel quadrato non poteva restare in vita altra regola della scrittura soprattutto quella pop se uccidi un sacco di queste persone come Thanos nei fumetti Thanos è diventato buono a un certo punto anche aiutato gli Avengers ma se fai snap e distruggi l'intero universo al cinema devi essere punito e così è stato e quindi anche a Ravonna credo non la vedremo più non ci viene fatto vedere cosa succede ma è alla fine del tempo e quei rumori quelle luci è a Lyot il mostro che distrugge le cose quindi probabilmente Ravonna è finita male però mi piace che non te lo mostrino perché è sempre ottimo tenersi lì un po' di cose per l'eventuale futuro quindi anche Ravonna è stata è stata punita i Kang i Kang ora sono liberi però il multiverso c'è non c'è più il rischio che collassi o meglio non c'è più il rischio che collassi in quel modo però i Kang sono un pericolo sono un pericolo perché ora possono aggirarsi liberamente per il multiverso e spadroneggiare dominarlo uno di loro tra l'altro è quello di Quantumania e infatti Mobius dice viene chiesto da 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 B15 ma è stato abbiamo trovato dei Kang delle varianti non dice dei Kang ovviamente perché non sanno il loro nome ma delle varianti di colui che rimane sì ne abbiamo beccata una a quanto pare ha fatto un po' di casino in un regno vicino a Terra 616 il regno quantico ragazzi chiaramente il regno quantico però la situazione si è risolta non l'abbiamo risolta noi dice si è risolta ci ha pensato Ant e le sue formiche lo so che qua molti di voi non sono d'accordo ma è andata così ok non sono servite solo le formiche è servito anche l'esplosione di 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 Modok che ha indebolito lo scudo è servito l'attacco anche della Gigantes non ci hanno pensato solo le formiche le formiche hanno fatto il suo in un piano comunque molto più complesso ok se no veramente Endgame è stato un topo a salvare tutto ok le formiche hanno fatto questa cosa non vi va bene ma il topo sì ci sono delle cose che portano ad altre cose non è che sono le formiche poi ci ha pensato Ant ma la cazzotti a fermarlo semmai non non le formiche va bene è stato un lavoro di squadra vogliamo accettarlo accettiamolo quindi insomma una variante di Kang era quella lì è stata risolta quindi anche qua ci viene detto in qualche modo che lui è morto ma lui è morto e lo sappiamo visto sempre da Quantumania però gli altri Kang sono ben incazzati adesso con gli Avengers soprattutto perché a loro imputano la colpa per via della morte di Kang era uno degli Avengers quindi basta il multiverso c'è i Kang ora possono muoversi è tempo di dare inizio a una nuova guerra dei Kang forse non tra di loro ma contro gli Avengers anche se Kang mi sembra il classico nemico che potrà tradire se stesso quindi vediamo cosa ci vorrà raccontare l'MCU manca ancora un po' anche perché è finito lo sciopero nel frattempo ma Marvel ha rimandato praticamente tutto perché chiaramente non poteva finirli i film ormai il tempo è praticamente scaduto quindi slitta quasi tutto di un anno chissà quando vedremo questa benedetta guerra fra Kang e fra Avengers però questo è un po' tutto quello che è successo una bella analisi spero di avervi spiegato tutto spero abbiate capito tutto devo dire che era una puntata molto lineare in realtà sto vedendo già un po' di confusione sul web mi sembra strano in altre puntate in altre occasioni magari qualche dubbio qualche teoria ma qui hanno voluto talmente semplificare tutto con il fatto che lui è un dio e può accollarsi tutto un vero e proprio deus ex machina deus ex machina lui è un dio quindi ad un certo punto fa vabbè ragazzi mi siedo qua tengo io sti fili punto infatti alla fine sorride sorride beato perché comunque ha salvato il multiverso Miss Minutes tra l'altro è stata riparata bellissimo ob che tra l'altro ora può girare per la TVE non è più in quello scantinato ma ob ma Miss Minutes ci tradirà per caso ob può essere può succedere l'intelligenza artificiale che puoi dirgli c'è anche un po' di critica in questa cosa carina e mi è piaciuta ovviamente adesso è il titolo del video è recensione analisi ma ho fatto praticamente solo l'analisi e no mi è piaciuta mi è piaciuta tantissimo questa puntata è una delle cose migliori secondo me che la Marvel ha prodotto negli ultimi anni come puntata in sé incasellata in una serie non perfetta che però ho preferito anche abbastanza di più della prima stagione che già mi era piaciuta è uno di quelli che non ha mai non ha mai detestato Loki a differenza di altre serie vedersi Falcon e Winter Soldier che insomma non ho non ho proprio molto sopportato quindi sì mi è piaciuta molto a livello visivo ed emotivo soprattutto fa il suo e questa è la grande lezione io è una delle cose che mi hanno fatto apprezzare The Marvels magari avete già visto la mia recensione è il puntare i personaggi alle emozioni perché succede questo perché fanno così ma non potevano sì è vero tante domande tanti problemi tante retcon però poi se i personaggi funzionano se ti dispiace perché Loki si è sacrificato diciamo seppure ancora là in vita tutto sommato se ti dispiace ovviamente lasci cadere magari delle cose che non funzionano l'ho ribadito più volte Endgame funziona molto peggio è scritto pure peggio a livello di viaggi nel tempo di questa stagione anche pure della prima di Loki probabilmente però era Endgame c'erano tutti c'era il passaggio di consegna Cap Iron Man che si sacrifica c'era talmente tanta beltà supereroistica che poi se qualcosa non tornava te lo facevi tornare un po' tu non ti lamentavi qui è la stessa cosa se anche magari al 100% l'equazione lokiniana non torna l'emotività ha preso e anche la messa è in scena perché comunque cinema le arti visive sono questo prende il sopravvento però tutto sommato in realtà secondo me le cose tornano tornano anche abbastanza ci sono magari delle mini domande dei mini problemi ma i macro problemi secondo me sono tornati tutti quindi quando si tratta di viaggi nel tempo ragazzi bisogna prendere anche un po' le cose come vengono e accontentarsi che il grosso funzioni magari non le cose nel singolo ma il grosso funzioni quindi gran puntata cast fantastico musiche fantastiche promossa questa intera stagione di Loki la promuovo è sì veramente uno dei prodotti più belli forse che hanno tirato fuori ultimamente in Marvel proprio a livello di ti racconto un'epopea sia epica che supereroistica e in più in realtà ti metto anche dei mattoncini per il futuro perché la Marvel è sempre in divenire quindi abbiamo un multiverso abbiamo Loki intrappolato là abbiamo una TVA che si dice dovrà comparire in Deadpool che pare sia l'unico prossimo film che vedremo l'anno prossimo dell'MCU a luglio dovrebbe arrivare vediamo vediamo cosa succederà vediamo la TVA quando scoprirà che Deadpool sta viaggiando di qua e di là cosa deciderà di fare probabilmente di fermarlo oppure di usarlo poi come grande alleato magari per sconfiggere Kang e le sue varianti assieme anche a Wolverine dai che si sta delineando qualcosa forse di interessante e di non troppo fanservice vedremo io vi aspetto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto fatemi sapere se c'è qualcosa che non avete capito fatemi sapere se avete delle domande delle domande in più credo di aver risposto a tutto ripeto perché è una puntata abbastanza lineare nella sua follia però fatemi sapere fatemi sapere se avevate inteso qualcos'altro però io vi posso assicurare che anche ascoltando i dialoghi è quello che è successo è questo ma vediamo magari poi mi direte che no non è vero uomo non hai capito fatemi sapere la vostra parliamone chiacchieriamone e parliamo anche del futuro parliamo anche del futuro Marvel faremo anche delle live apposite sul mio canale Twitch quindi venite anche su Twitch qua sotto in descrizione trovate tutti i modi per raggiungermi su Twitch su Instagram modi per supportare il canale c'è un negozio di fumetti di Funko Pop di carte di One Piece di tutto quello che volete dove potete comprare di tutto su questo sito insidecollectors.com trovate il link scrivete uomo quando comprate le cose avrete il 5% di sconto se no ci sono le magliette nerd tipo questa di Capitan America molto più belle in realtà su Nerdstore anche qua sotto trovate il link per il negozio di magliette tutti i modi per supportarmi quindi fatelo cliccate sui vari link cercate un po' di vedere le cose che vi aggradano di più perché insomma mi aiutate a portare avanti il mio lavoro e il mio progetto e basta basta abbiamo parlato fin troppo fatemi sapere nei commenti fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate parliamo di Loki parliamo di Loki tra l'altro faremo anche una bella live totally spoiler insomma state attenti perché sta per tornare Marvel Cinematic Chatting con Matioski Sarende Tardis e anche un nuovo ospite ma non vi dico di più dove parleremo ovviamente a spoiler totale sia di Loki in realtà che di The Marvel quindi veramente i due prodotti che hanno chiuso un ciclo e aprono al futuro verso cose misteriose che vedremo chissà quando vi aspetto nei commenti scrivete qua sotto voglio sapere la vostra ciao